Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Gabriel93 e buongiorno a tutti i caffè Ok ragazzi, cosa dovremmo fare? Dovremmo prendere il video dove diciamo di questo contest Ragazzi un'altra cosa, serve che voi dite di scrivere qualcosa nei commenti Questo è molto importante Prendiamo un video che ha commenti, per esempio questo facciamo Bene, facciamo condividi e facciamo copia link Dopo dovremmo andare sul link che trovate sotto nei commenti Andiamo a cliccarlo, apri Apriamo il nostro link Incolliamo Adesso ragazzi prenderà un commento a caso Per esempio Click button Per appunto il link Adesso clicchiamo random pick win MX Matteo Beril Non so chi è 5 commenti e 1 like Ragazzi ci prende a caso Più commenti ha, più commenti ha messo e più like ha messo Però ragazzi quindi questo era come fare un contest Se volete che lo faccia Io Facciamo così Arriviamo Quando arrivo ai 30 iscritti Faccio un contest Dunque questo era tutto Ciao da Gabri93 Grazie a tutti